Incidente. Fra tre moto a Novivelia, tre feriti sono finiti in ospedale. Accaduto nella tarda mattinata di ieri ai piedi del Monte Gelbison, i protagonisti dello scontro, uno residente del posto e gli altri due provenienti da Battipaglia e Salerno, stavano probabilmente dirigendosi verso il santuario del Monte Gelbison, quando si è verificato l'impatto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i motociclisti di Salerno e Battipaglia si erano fermati presso il punto di ritiro dei ticket, situato lungo la strada di accesso al Sacromonte di Novivelia. In quel momento il motociclista del posto che sopraggiungeva ha perso il controllo del proprio mezzo, travolgendo violentemente gli altri due motociclisti. L'impatto è stato tale da provocare la caduta di tutti e tre, creando una scena di caos e preoccupazione tra i presenti. L'incidente ha richiamato l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze della misericordia di Vallo. Anche gli agenti della polizia locale di Novivelia e carabinieri del reparto territoriale di Vallo sono intervenuti prontamente per effettuare i rilievi necessari e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica precisa dell'accaduto. I tre motociclisti coinvolti nell'incidente sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Fortunatamente, nonostante la gravità dell'impatto, le loro condizioni non risultano critiche. I tre hanno riportato diverse fratture, in particolare al gomito, alla spalla e alla caviglia, ma sono stati dichiarati fuori pericolo dai medici. Le autorità stanno cercando di comprendere le cause esatte dell'incidente, valutando se la velocità eccessiva del motociclista di Novivelia o eventuali altri fattori abbiano contribuito a causare la perdita di controllo del mezzo. L'accaduto, addestato preoccupazione tra i fedeli turisti che, come motociclisti coinvolti, erano diretti alla Sacromonte di Novivelia, un luogo di grande significato religioso e meta di pellegrinaggi, soprattutto nei mesi estivi.